Buon buon pomeriggio a tutti ragazzi, allora è stata presentata ufficialmente la nuova maglia del basket della Juventus Da basket della Juventus Allora, non è stata presentata ufficialmente la squadra di basket della Juventus Ma questo significa che non si farà? No, perché ci sono ancora contatti e ci saranno ancora tra Agnelli Adesso non mi ricordo l'altro nome, vabbè ve lo lascerò Comunque come in descrizione e quant'altro, vabbè Da qualche parte vi lascerò il nome Perché stanno, sembrerebbe, ok Che starebbero appunto mettendosi d'accordo con un'altra Adesso non mi ricordo Con un'altra società di basket, se non sbaglio Insomma per fare una società unica Non so se poi prenderebbe il nome di Juventus La squadra di basket, vabbè comunque A parte questo, un'altra cosa innovativa da parte della Juventus Comunque le novità, i dettagli e quant'altro Ve le lascerò comunque sempre in descrizione Vabbè, quindi altra cosa innovativa della Juventus Questa cosa delle magliette di basket più che altro Andrà molto via per quanto riguarda l'America Perché li sono fottutamente infognati Su appunto queste maglie da basket E quindi crescerà ancora di più il marketing Il merchandising della Juventus Ed è una cosa molto positiva Anche questa scelta innovativa Costano 90€ nello US Store, se non sbaglio Queste maglie E niente, non mi resta altro da aggiungere Se non... Intanto per me è una grandissima figata Ed è una grandissima idea Nuovamente una grandissima idea della Juventus E l'altra cosa da aggiungere sicuramente è che Le altre società, le altre tifoserie più che altro Ma anche gli altri tesserati Continuano a combatterci a... Come se fossimo i nemici Numero... Numero uno alla fine Poi, non so... Sinceramente... Per me non hanno nemmeno la dignità questi qua Perché la Juventus nel 2006 era praticamente sparita E in 12 anni ha fatto quello che ha fatto A parte il campo Ma anche fuori dal campo Ha fatto quello che ha fatto Cioè è cresciuto in una maniera esponenziale A livello nazionale e internazionale È veramente una cosa pazzesca Invece di prendere appunto esempio della Juventus La combattono come nemica numero uno E così facendo la Juventus A parte magari qualche eccezione Continuerà a vincere sul campo E espandersi nel mondo A livello appunto di marketing Di brand e quant'altro E le altre invece continueranno a non fare questo E continuerà a distaccarsi la Juventus Dalle altre società e squadre di Serie A L'unica, ripeto, che secondo me Sta prendendo un po' d'esempio la Juventus È la Roma a livello nazionale Quindi le altre invece De Laurentiis, le milanesi Boh, cioè L'unica cosa simile che fanno Per quanto ci riguarda Alla fine sono le tournée americane Le tournée cinesi Le tournée insomma in generale A parte il Napoli Le milanesi Ovviamente mi riferisco alle milanesi Però per il resto L'unica che sta prendendo Ad esempio la Juventus Al di fuori delle tournée E al di fuori appunto del campo E anche Cioè è la Roma alla fine Quindi sinceramente Non Veramente Vabbè io ripeto Meglio così per noi E per carità Cioè loro continueranno a combatterci Continueranno a sputtanarci A infangarci A deliderci A sfotterci A sminuirci A sminuirci A parlare di finali Quando loro Una finale europea In Champions League Non l'hanno mai fatta Vabbè comunque a parte questo Va bene così Noi continuiamo ad espanderci E non solo a vincere sul campo A livello internazionale Come brand Come merchandising Come marketing E gli altri invece Continueranno Scusate ragazzi però Ho appena finito Degli aere l'erba Sotto 35 gradi E cioè Sono morto praticamente Vabbè comunque A parte questo E Sinceramente Continueranno A fare Ad avere questo comportamento qui E Di fatto Questo Comportamento Loro Sarà un bene per noi Un male per loro Tutto qui Comunque Detto questo Sono contentissimo Anche di questa novità Della Juventus E vediamo perché comunque Le innovazioni Della Juventus Sicuramente Non finiscono qui Ok Bene detto questo Vi auguro buon pomeriggio a tutti Fino alla fine forza Juventus E gran Bella Idea Per aumentare il fatturato Perché Il fatturato La Juventus Ragazzi Non è che gli piove dall'alto Come fa Credere qualcun altro A Napoli Il fatturato La Juventus Se l'è creato Ok Dal 2006 in poi Soprattutto Se l'è creato Non ha arabi Non ha banchi dietro La Juventus Se l'è creato Dal nulla Anzi Da meno 100 milioni Di euro di debiti La Juventus Si è creato quel fatturato Che adesso Ok Bene Che sia chiaro questo Buona giornata a tutti